Secondo spazio del Bianco e Rosso TV Sport con il professor Gianni Antonucci, tra pochissimo il collegamento con un grande ex dell'incontro, possiamo anticipare il nome, Federico Giampaolo, hai portato anche delle foto particolari. Sì, è venuto a Bari quando aveva appena 21 anni e ha fatto un gol con il Bari nel derby di Foggia dove perdemmo poi 4 a 1, grazie alle imprese tattiche di un certo Boniek. Quando dicevano così B e anche B, infatti andammo in B. E allora siamo pronti perché in collegamento telefonico c'è proprio Federico Giampaolo, buon pomeriggio Giampaolo. Buongiorno a tutti voi. Carissimo Giampaolo, nonché Federico, Federico è un buon ristorante di Bari. Facciamo pubblicità, allora mentre parliamo ovviamente con Federico Giampaolo si scorrono anche delle foto. Vedi tutti i capelli, poi ti manderò la cassetta di questa, o meglio il DVD è vero, si chiama ora. Allora Federico ti chiedo subito che partita ti aspetti domenica a Crotono, una partita particolare, il Crotono è ultimo in classifica, un Bari che vive anche un momento difficile, che partita ti aspetti? Ma è una partita difficile come tutte le altre, soprattutto questa domenica perché il Bari viene da una situazione particolare, il Crotone è ultimo in classifica come hai detto tu, per cui dura, dura e difficile perché io a Crotone ci ho giocato, di conseguenza l'anno scorso hanno fatto un grande campionato, quest'anno non sono partiti come l'anno scorso, però è sempre una squadra da affrontare con la massima concentrazione. È normale che per il Bari è una partita fondamentale, però penso che abbia tutte le carte in regola per fare il risultato. Figo, tu attualmente vivi anche a Bari, quindi penso che il tuo cuore sarà più verso il bianco-rosso domenica. Ma sicuramente, anche perché io poi ho lavorato anche due anni in primavera con i Bari, per cui è normale che tifo Bari perché è una piazza effettivamente che merita tantissimo. Gianni, che tipo di giocatore era Federico Giampaolo? Beh, è un brevilinio d'attacco. Del resto io lo ricordo amaramente, amaramente, perché il mio caro ragazzo Federico, che praticamente, guarda a caso, ha la stessa età ed è stato gli stessi giorni e gli stessi anni di mia figlia, questo bravo ragazzo contro il Bari ha fatto due gol, una doppietta, e perdemmo tre a due, tre a due, fino al punto che ti dico che fece il gol a Crotone, anche un ex del Crotone, che era stato dato in prestito dal Bari, cioè vantaggiato. Ah, perfetto, la ricordi quella partita Federico? Un'altra spesa viciniale, andai con il compianto Vittorio Sbisà, andammo a vedere questa partita, durante la quale il buon Federico Giampaolo fece la doppietta. Tu immagini a me, ti ricordo che era una delle prime partite di campionato. Gianni non l'ha ancora digerita, Federico, che ricordi hai anche di quella partita? Vabbè, vabbè, vabbè. Mi ricordo benissimo, era una delle prime partite di campionato, lì vincemmo tre a due, fece una doppietta. Diciamo che il Bari mi ha portato sempre bene, per quanto riguarda i gol che sono riusciti a fare. Esatto, per cui me la ricordo bene. Beh, poi tu a Crotone comunque siete retrocessi, però hai disputato comunque una stagione importante. No, 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 non retrocedemmo. Ah, no, mi sono sbagliato io. Però fu una stagione per te comunque molto importante, no? Cinque gol, sei diventato una sorta di idolo anche per... Sì, ma ero un po' a fine carriera lì, per cui andai a Crotone, avevo già 33 anni, era quasi agli sgoccioli della carriera, anche se poi ho smesso di giocare a 40 anni, per cui... Gianni, invece per Federico, con il Bari 20 partite è un gol, eh? Dove si trovi in questo momento che sta parlando con noi? Ma io sono a Bari, a casa. E qui, a Bari, quindi magari lo ospiteremo nel... Vieni a trovarmi allo studio, che ti do il DVD di questa trasmissione, dove c'è anche la fotografia che ho trovato fra le mie, del tuo matrimonio con la signora Paolo. Ah, sì, infatti. Va bene. Va benissimo. Io ti aspetto, ti aspetto, ti aspetto. Beh, magari lo ospiteremo presto anche nei nostri studi, visto che comunque Federico è qui a Bari. Poi in attesa, ovviamente, Federico, anche di una nuova panchina, no? Ma io sono stato da Osta quest'anno, per cui poi sono andato via dopo 5 partite, perché purtroppo il campionato dilettantistico non è come quello professionistico. Di conseguenza ci sono state parecchie difficoltà, però anche quella è un'esperienza da fare. Mentre Gianni, per chiudere, l'unico gol di Federico Giampolo con la maglia del Bari? Ah, Foggia. Quattro a uno perdemmo. E l'ho detto prima, però avevi i capelli. Vedi, è questa l'azione. Eh, sì, esatto. E questo è il gol che fece a Foggia, vedi? Sì, esatto. Ce l'ho ancora immortalato. È vero, è vero. Mezzo a me, 55 mila fotografie del Bari. È chiaro che sono andato a pizzicare anche il gol di... È vero. Diceva uno, dice, mo' che se ne vanno un ucce a quell'altro mondo. Eh, va bene. Eh, va bene, arriverà. E poi quello lì era il Foggia di Sera. Oh, fra quattro giorni faccio 87, eh. Ma complimenti con una memoria di ferro. Va bene, va bene. Beh, noi salutiamo ovviamente Federico Giampolo per la disponibilità. Grazie Federico e buona giornata. Grazie a voi. E allora, Gianni, dopo questa chiacchierata con l'ex di turno Federico Giampaolo, c'è tanto... Vabbè, ora mi verrà a trovare. È un bravo ragazzo. Beh, sì, so che non hai digerito quella doppietta, però... Ho detto quando mia figlia. Andiamo avanti. Allora, vediamo un po'. C'è tanto materiale. Vediamo la lettera. La prima cosa che ci tengo a sottolineare è che a me hanno mandato i ringraziamenti per tutti, come dire, l'affetto che hanno avuto la moglie e le due figlie di Ciconia. Guarda un po', vediamo un po' se lo possiamo far vedere il biglietto che loro hanno mandato a tutti, per tutti i tifosi, tramite la nostra emittente. Vedi, a tutti i tifosi bianco-rossi. Ora lo vediamo. Vediamo un po'. Con le firme autentiche delle tre, eccola qua, stanno là, che sono Susanna, Sabrina e Vittorina, che è la moglie. Vittoria si chiama la moglie. Perfetto. Quella che sta, invece, è una seconda lettera che io vorrei sottolineare. Dici, sono Francesco, vorrei sapere quello che molti chiedono, e l'ho sentito anche al novantesimo minuto, di Telebari. Eh sì, condotto da Barbara Cini. E' il padrone del Bari. Io mi sono stancato, ti devo essere sincero. Mi sono stancato. E allora, ci hai portato questa immagine. Il buon Gianluca Paparesta, il buon dottor Gianluca, l'ha detto mille volte, l'ha detto mille volte. Qualcuno, se non si ricorda, si chiama Infra Media Partner. Infra, possiamo vedere ancora questa immagine. Allora, proprio mercoledì, la Gazzetta dello Sport ha pubblicato due pagine. Una è questa. Io porto i soldi e spiega il Bogarelli. Bogarelli, che praticamente lo chiamano ormai il padrone del calcio italiano. E poi è l'ora di un nuovo calcio. Bogarelli dice chi è che sono le varie società che loro gestiscono da un modo di vista di marchi, di contratti di marchi e di sponsorizzazioni. Ci abbiamo l'Atalanta, il Chievo, il Genova, l'Inter, la Lazio, il Milan, il Palermo, la Sampdoro, l'Udinese, il Verona e di Serie B soltanto il Bari. L'unica il Bari. Cos'è riuscito ad ottenere Gianluca Bamaresta che è stato bravissimo in questo. Altro che stare a fare la contestazione. Noi stavamo già fuori dall'ambito del calcio non solo nazionale ma anche di più. La contestazione non riguardava la società comunque Gianni, era più verso i calciatori il loro atteggiamento. Comunque andiamo avanti con le lettere. E facciamo quella della lettera. Queste sono due lettere, anzi questa è una lettera abbastanza, fammi vedere, eccola qua. Tutti hanno ricordato Gigi Riva per i 70 anni. Qua dice, la signora Giuliana chiede, si sono fatti tanti auguri e complimenti a Gigi Riva per i suoi 70 anni. Ci sono ex calciatori del Bari che compiono quest'anno i 70 anni? Ecco, ce ne sono nove. Tutti hanno ricordato Gigi Riva e oggi vediamo uno è Colombo, fa 70 anni. L'altro è esattamente Colauti, chi non è giovane se lo ricorda benissimo. Poi ancora De Petrini, lo stesso periodo di Colauti, 70 anni. Pienti, bravissimo, centrocampista, mezza punta. Sciacovelli, Barese, non so che faccia oggi, lo devo chiedere a Frisini. Poi abbiamo ancora, ecco, Marmo, questa è Sega, Sega che praticamente è stato, questo è Volpato, 70 anni. 70 anni, eh, poi non vuoi fare, qua non mi passa il tempo. E poi abbiamo ancora un altro settantenne che si chiama Troia, o Gaetano, il palerbitano. E infine Toschi, questo era un giocatore che praticamente faceva la riserva a Moiesan nel bare di Serie C di Toneata del 66-67. Eh sì, poche presenti, 7 presenze, 0, 0, 0. E anche questo è arrivato a 70 anni. E abbiamo esaurito per ora le lettere principali. Eh sì, va benissimo. E mi pare che facciamo gli auguri a tutti questi settantenni, come l'hanno fatta Gigi Riva. E allora, dobbiamo andare in pubblicità, poi, nella terza parte, non solo i precedenti di Grottone Bari. Ma c'è una grossa novità. C'è una chicca. Una primizia che il quartiere Bari la dà. E allora, a tra poco. Ecco. 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 Ecco.